Benvenuto players in questo nuovissimo video! Benvenutissimo, benvenutissimo! Come andiamo? Tutto bene? Spero molto bene! Fai attenzione player! Fai attenzione adesso, mi raccomando, lascia da parte tutto quello che stai facendo Concentrati su questo cazzo di video perché sarà una bomba! Oggi di che cosa andiamo a parlare? Di cosa parlare con una ragazza, ma soprattutto di come riuscire a parlare in maniera efficace, persuasiva Con una ragazza, per fare in modo che questa ragazza, quando tu ci parli assieme, si piglia bene E perché abbiamo deciso tra l'altro di fare questo video con questo argomento? Diciamolo! Perché innanzitutto, partiamo dalle basi, ok? Se non ci conosci, non ci hai mai visto, ci presentiamo, io sono Kita Io sono Johnny E questo è il canale di Social Players Un canale, anzi, una community composta da persone che desiderano migliorare quelle che sono le proprie abilità sociali Sia dal vivo che in chat, per riuscire a vivere una vita a livello sentimentale che valga davvero la pena di essere vissuta E ogni giorno aiutiamo tutti i membri della nostra community attraverso i contenuti gratuiti Come quello che stai vedendo tu adesso e in questo momento Anzi, lascia un bel like e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto Iscriviti al canale player, iscriviti adesso, metti il like e iscriviti e attiva la campanella E oltre a tutti quanti i contenuti gratuiti, che cosa andiamo a fare? Anche dei percorsi formativi a pagamento di un livello molto più avanzato Per fare in modo che chi desidera veramente arrivare al top a livello appunto nel campo degli effetti Con noi qua è il posto perfetto per riuscire a farlo Infatti stiamo registrando questo video dove è appena finito un nostro evento dal vivo Dal nome Weekend Epico, se non l'hai mai sentito Il Weekend Epico è un evento che si svolge nel weekend Dura due giorni, dove attraverso la teoria e della pratica Che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare praticamente, distruggiamo tutte quelle che è le ansie, le paranoie Le ansie d'approccio, le paure di approcciare Ti facciamo sbloccare il livello emotivo Poi ti diamo tutta la teoria per riuscire a approcciare in maniera efficace di giorno E andiamo a metterlo in pratica Quindi scegliamo in strada insieme a te, insieme a tutti gli altri ragazzi Perché è un evento da vivo di gruppo Andiamo ad approcciare in strada delle ragazze sconosciute Così lo fai in prima persona E poi successivamente feedback, non feedback, eccetera, eccetera Alla sera ci ritroviamo Facciamo altra teoria su quello che è le dinamiche relazionali di sera E dopo la teoria andiamo a fare di nuovo pratica Andiamo in uno dei locali della città dove si svolge il Weekend Epico E andiamo a fare pratica Quindi andiamo a conoscere tutte le ragazze del locale Andiamo a approcciare tutte quante È una roba pazzesca Il giorno dopo di nuovo altra teoria riguardante le chat E poi altra pratica ancora È un evento della Madonna L'abbiamo appena finito È stata una figata pazzesca Tra l'altro questo Weekend Un full immersion della Madonna Due giorni da panico, paura E i ragazzi che arrivano così Tornano a casa così Quindi siamo anche molto soddisfatti Sì, sì, sì Tra l'altro veramente stupida È stata una figata Se la cosa ti interessa Scrivici in privato In DM su Instagram Così riusciamo a indirizzarti e tutto quanto A darti tutto quanto di informazioni in merito Se non hai Instagram Scrivici una mail ad info Occhiocciola We are social pairs Dot com Punto com Ok? Ci scrivi una mail Raga come funziona il weekend epico Volevo informazioni Blah 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 Ti spieghiamo tutto quanto Tra l'altro Cioè muoviti Se ti interessa farlo Perché le date stanno andando sold out Ok? Questo è vero Dobbiamo dirlo raga Prendetevi per tempo Perché poi dite Ah ciao raga Vorrei venire il weekend epico Non c'è più posto Sold out Non possiamo Vorremmo Ma non si può C'è un limite Che va rispettato Quindi ci siamo Ecco hai capito bene Questa realtà Come funziona Eccetera eccetera E proprio perché questo weekend È andato in un determinato modo E sono emerse Determinate Determinati argomenti E vi ho detto Ok facciamo un video Proprio su questo argomento Di cosa parlare con una ragazza E in più Come riuscire a farlo In maniera efficace In maniera persuasiva Ok quindi Prendito il bel blocco Appunti Tanto il like Detto che l'hai lasciato Segnati le cose che ti diciamo Perché sennò poi te le dimentichi E direi che possiamo Cominciare Possiamo cominciare Player Allora fai molta attenzione Innanzitutto Ci teniamo a dire che cosa Che il di che cosa Devo parlare con una ragazza Dipende Ok fai molta attenzione Dipende dal tipo di conversazione Che stai avendo con la ragazza Dipende da Come Dove L'hai approcciata Perché possiamo dire Che ci sono Conversazioni Più leggere E più profonde Ok Conversazioni più leggere Sono quelle Praticamente subito Dopo l'approccio Hai approcciato la ragazza 2, 3, 5, 10 minuti Conversazione leggera Scherzosa Ironica Non troppo profonda Sono argomenti Troppo seri Mentre Una conoscenza Inoltrata Cioè possiamo dire Dai 30 minuti In poi Di peggio È giusto per darti Delle tempistiche Perché se no Poi ti esplode il cervello Sono le tempistiche Lo sappiamo Esatto Lì c'è una conoscenza Già inoltrata Allora sì Ci si può adentrare Più in profondità E ovviamente Gli argomenti cambiano Ok Gli argomenti cambiano Dipende dal tipo di conversazione Dal tipo anche di ragazza Quindi devi Avere anche tu Una sensibilità Per capire bene Come gestire La conversazione E quando parlare Di un determinato argomento Con una ragazza E andiamo a capire Quindi Come riusciamo A migliorare Quella che è La tua sensibilità Nel momento in cui Esci di casa Un sabato pomeriggio E vai ad approcciare Una ragazza sconosciuta Da zero Ci inizia a parlare Papapapapa Ok La conversazione Andiamo a capire La sensibilità Gli accorgimenti Da apprendere Per riuscire a fare in modo Che questa sensibilità Sia molto più elevata In modo tale Che così Riesci a comunicare In maniera molto più efficace Molto più persuasiva Fare in modo Che la ragazza Si pigli bene E rimanga attratta Da te E così Poi se devi chiedere Di scambiare il numero Un appuntamento Eccetera eccetera Risulta tutto più in discesa Esattamente Ok Quindi attenti Ben a mente in questa cosa Ci sono grandi Tipi di conversazione Tra la più leggera La più profonda Ma ora andiamo a capire Le indicazioni La prima che devi segnarti È importantissima Devi essere interessato A ciò che ti dice Segnati questa cosa Devi essere interessato A ciò che ti dice Genuinamente Esatto Ascoltami player Un buon comunicatore È prima di tutto Un buon ascoltatore Quando tu stai parlando Con questa ragazza Ascolta Ciò che ti dice Interessati Al suo mondo A scoprire un qualcosa Di nuovo Che magari puoi anche Imparare Un qualcosa Che lei può darti Ascolta ciò che ti dice Interessati A lei Ma veramente Ma veramente Ovvero Non distrarti Con il cellulare Non distrarti Con il mio Quindi sul momento Tu davanti a lei E interessati Al cento per cento A ciò che ti dice Anche perché Tanti ragazzi Commettono Un errore Cioè Iniziano a conversare Con una ragazza Magari Classicone Fanno una domanda Una qualsiasi domanda Tipo Ah ma Che piani hai Per il weekend Facciamo finta Non aspettano nemmeno Di ascoltare La risposta E la ragazza Nel frattempo Nel loro cervello è Cosa devo chiedere dopo Hai capito Non si godono il momento Cazzo Loro Non sei lì presente Ascoltano ciò Che dice la ragazza Ma non lo percepiscono Non lo recepiscono Pensano già A ciò che dovranno dire dopo Ed è un errore Perché molto spesso Il Non so cosa dire È perché non stai ascoltando E se tu non ascolti Non riesci neanche A cogliere i ganci Che la ragazza ti dà E quindi rimani lì Inbambolato Ascolta ciò che ti dice Non pensare già A cosa dovrai dire tu dopo Non è il momento Di puntare i riflettori Su di te Ma su di lei Su ascoltare il suo mondo Scoprire il suo mondo E sentire tutto ciò Che ti dice Così ti verrà anche più facile Poi da continuare La conversazione In modo genuino Perché se lei ti inizia a parlare Delle sue vacanze Estive E tu da nulla Mi parli di macchine È perché cazzo Non stai ascoltando Ascolta ciò che ti dice Cogli i dettagli Cogli i ganci E poi Sarai in grado Di svilupparli Ma per coglierli Devi ascoltare Ciò che ti sta dicendo Ad esempio Ad esempio Anche in una conversazione normale Normale Che io posso avere Con un ragazzo Che magari è interessato Alla palestra Fitness Eccetera eccetera Se io ci devo parlare Tutto ciò Di cui andrò a parlare Con lui In base Appunto Riferimento All'argomento fitness Sarà una Naturale conseguenza Non rimarrò Senza argomenti Con questa persona Perché io sono realmente Interessato A ciò che mi dirà Perché magari Questa persona qua È un personal trainer Della palestra Non lo so Ok Quindi inizio a dire Ah ma tu fai il personal trainer Non lo so Tipo Ma quindi a panca piana Secondo te si fa così Si fa così Eh no Perché a me è capitato Invece di farlo In questo modo qua E poi mi ha fatto male La spalla Perché agiro in questo modo qua E ci sarà un botte risposta Tra me E questo ragazzo Questo personal trainer Naturale Io non rimarrò Senza argomenti Perché sono realmente Interessato A ciò che sto dicendo E ciò che mi sta rispondendo Questo personal trainer Sì perché secondo me Cioè due sono le cose O conosci L'argomento E allora puoi fare Uno scambio di opinioni O non conosci l'argomento E allora hai l'occasione Di imparare un qualcosa E di incuriosirti Esatto Quindi molto importante Il ascolta ciò Che ti sta dicendo E interessati genuinamente Alla ragazza Direi che possiamo passare Al prossimo Al prossimo step Cioè Non sminuire I suoi interessi Che cosa vuol dire player Vuol dire che Non devi banalizzare Ciò che ti sta dicendo Ovvero Se questa ragazza ti dice No perché sai Io sono appassionata Di giardinaggio Sono appassionata Di non lo so Cucina Sono appassionata Yoga Spiritualità Yoga Arte Qualsiasi cosa Non sminuire Dicendo Ah vabbè ma che schifo Ma non ci credo Che ti piace l'arte Ma non ci credo Che ti piace dipingere Ma giardinaggio No Non fare il gorilla Por cortesi Cioè devi Ogni persona Al proprio mondo Alle proprie passioni Alla propria educazione Il suo sistema di credenze Valori E merita rispetto E questo è importante A prescindere di cosa tu possa Pensare o no A riguardo Non Sminuire E banalizzare Ciò che ti sta dicendo Perché risulterai Antipatico Arrogante E non starai dimostrando Reale interesse E sarai di conseguenza Una persona respingente Perché nessuno vuole Sentirsi sminuito Per il contrario Cerca di interessarti Realmente E cerca di scoprire Che cosa le piace Di ciò che ti sta dicendo Cerca di scoprire 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 Perché ad esempio Mi viene in mente Ho fatto un appuntamento Di recente Con una ragazza Che mi parlava Del fatto che amava Il mondo degli sciamani E di tutte quelle cose lì Ok Ora è una roba Che io non conosco Assolutamente E mai Mi sono sognato Di poter minimamente Dire alla ragazza Ma che cazzo Roba è Ave sciamani Dove sei In mezzo C'è Mai Che cazzo dici No Non lo so Due Sminuire Non intendiamo Solo e disclusivamente Andare contro Il suo interesse Ma intendiamo anche Il minimizzare Questa cosa qui Cioè Lei nel momento in cui mi ha detto Ah no Perché mi piace il mondo Di sciamani Lo spiritualismo Eccetera eccetera Io non ho risposto Ah ok Ok Beh Carino dai No perché anche così Lo stai sminuendo Lei si sta aprendo Con te Parlandoti di una sua cosa personale Tu non puoi rispondere Ah bello Buon fine Perché la ragazza dice Oh io mi sto aprendo con te Sì E tu mi rispondi così Fittana Sì dimostrati anche entusiasta Di ciò che ti sta dicendo Devi Cioè devi essere Voglioso Di scoprire Ma è anche per te Perché così allarghi Quelle che sono le tue conoscenze E riesci anche ad evolvere Anche se fosse quello Zero Un per cento Tu evolvi Se invece vai in giro A sminuire E a fregartene È ovvio che poi Uno Cioè la conversazione Si stoppa La ragazza si stanca Eccetera eccetera Anche tu non riesci Ad evolvere Ad espandere Quelli che sono i tuoi orizzonti Le tue conoscenze Eccetera eccetera Ci perdete tutti quanti Ok Quindi evita Anche questo errore qua Piuttosto agisci Come ti abbiamo detto di fare Durante tutto questo video Fino in questo momento Ci siamo Ci siamo Passeremo Poi Al prossimo Step Rendi player La conversazione Emozionante Che cosa vuol dire player Non essere Fottutamente Logico Per l'amor Del cielo Cerca di viaggiare Con le emozioni Devi capire che Devi riuscire a creare Una connessione Con questa ragazza Devi riuscire a suscitare In lei Emozioni come Gioia Divertimento Allegria Interesse Curiosità Attrazione Tutto ciò che c'è di positivo Esci Esci dagli schemi Logici A cui sei abituato A pensare Apri questa cazzo Di scatola E tira fuori Dei colori Spremi Questi colori Non a cazzo Di tavolozza Apri il tuo pennello E inizia Cazzo A colorare Porca troia Dammi emozioni Dammi colore In questa conversazione E Questo ad esempio Mi ha fatto venire in mente Ieri sera Quando ci andiamo a fare pratica Prima di raggiungere La discoteca In cui ci andiamo a fare pratica Eravamo in metro Ok Durante il tragitto E c'erano Io ero seduto Accanto al corsista Metro da quattro posti Accanto al corsista C'erano due ragazze Lì Non è che era L'occasione No lì è iniziata A approcciare Abbiamo iniziato A approcciare A conversare Blah 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 Lì Abbiamo proprio Le ragazze Si erano sbregate Da ridere Ma tu Di dove Erano spagnoli Ragazze Bacerano No ma tu La casa di carta Una casa di carta Ma l'hai visto Io che mi metteva a parlare Oh ma tu Mare fuori L'hai mai visto A delle ragazze Spagnole Mare fuera Che è Mare fuera Buscalo Buscalo Gioia Ok Stiamo parlando di Serie tv Però c'è L'emozione che si trasmetteva La gioia Divertimento Allegria Loro tutto il tempo Con il sorriso stampato In faccia Positività Oh mira il ciclo Il ciclo della casa Dele amare fuera Buscalo Buscalo Cercava Qua stai conversando Per generare Proprio emozioni positive Perché Perché trasporti Le persone Esatto Quindi fondamentale Player No la logica Si l'emozione Chiaro questo concetto Andiamo avanti Ok Poi Prossimo punto Non aver paura Delle pause Player Non muore nessuno Se stai due secondi In silenzio Stiamo tre secondi Un attimo in silenzio Sei morto? No Sei vivo? Sono vivo È successo cosa? No Ok In una conversazione Stare in silenzio Per pensare un attimo A cosa dire dopo Per evitare di dire Cazzate È normale Le pause Durante la conversazione Tua con la ragazza Non sono per forza Tue nemiche Ma anzi Per il contrario Possono aiutarti A creare tensione Tra di voi Possono aiutarti A vedere se lei Ti fa domande Se lei fa un qualcosa Tira fuori un argomento Per riniziare La conversazione Con te Per dimostrarti Che è interessata E questa è una cosa Che in realtà Io addirittura Faccio di proposito E consiglio anche Di fare di proposito Perché quando inizia Ad avere sotto controllo Questa dinamica Poi sei in potere Della conversazione Quante volte Ad esempio Io quando faccio Un appuntamento Soprattutto Se Lo faccio in generale Durante l'appuntamento Ma soprattutto Se magari Vengono in macchina mia Le faccio salire in macchina Accendo la radio Magari Tolgo la radio Silenzio Per tuttare Tutte le tue Delle pause Perché poi Nel momento in cui Si calcola Pasoli E la ragazza Dice qualcosa E no ma perché Tra l'altro Blah 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 Oh ma comunque Blah 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 Eh perché sai Che è Blah 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 E anche così facendo Addirittura Non solo La ragazza Ti percepisce In pieno controllo Ma in più Arrivi a far investire La ragazza In una conversazione Arrivi a far investire La ragazza Nei tuoi confronti Arrivi a far investire La ragazza Nella vostra relazione Nel vostro rapporto E di conseguenza Il generale attrazione Sarà molto più in discesa Quindi si Devi saperlo Devi saper utilizzare Le pause Chiaramente Ok Infatti è anche Quello che insegniamo I nostri percorsi Eccetera eccetera Perché possono aiutarti Molto 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 Soprattutto quando vuoi Creare dell'attenzione Sessuale Ok Ok ma Mettiti bene In testa In questo momento Che È normale Fare Delle Pause In una conversazione Chiaro È anche Normale Fare Schifo Se sei all'inizio Del tuo percorso Non ti preoccupare Ok Poi se lo vuoi velocizzare Meglio ancora Ci iscrivi Eccetera eccetera Però Non buttarti giù Perché tanti ragazzi Magari si buttano giù No perché io parto Completamente da zero Non ci riesco Non ti preoccupare È normale Inizio È come Pensare di pesare 150 kg È Sì è normale Che ci metti un po' Perché devi dimagrire Eccetera eccetera Non ti preoccupare Ok Sai cos'altro è normale anche Mettere un like Beh si è È una cosa che tutti fanno Quindi fratelli Fanno anche tu Dai muoviti Dai player Cazzo sei qua Stiamo già È ciucciando un video gratis Della madonna Por cortesie Ma vuoi mettere un like E iscriverti a questo canale Player per cortesia Non lo sei Non se ve Non se ve Cioè Dai Fallo Così possiamo andare avanti Metti like Iscriviti al canale E invia Questo video Ai tuoi amichetti E di Raga guardate i social Pesche Bomba atomica Che sono come Ci insegnano A saperci fare Con le ragazze Che è Tra l'altro Poi Magari Sta guardando il video E dice Sì Tutto bello Ok grazie Assolutamente grazie Che mi avete spiegato Come riuscire a comunicare In maniera efficace Durante una conversazione Con una ragazza Per alzare le probabilità Che lei rimanga Tratta da me Eccetera eccetera Ma di che cosa parlo Perché il titolo Era di che cosa Parlare con una ragazza E va bene E va bene Player Ti accontentiamo adesso Lezze gol Andiamo a vedere Un attimino Gli argomenti Che puoi trattare Durante la conversazione Con una ragazza Anche qui Dipende Sono migliaia di argomenti Andiamo a darti Un attimo Le skills Necessarie Le basi Per farti parlare Con questa bella ragazzina Che ti piace tanto Che vuoi conquistare Ok Quindi Adesso andiamo ad affrontare Un attimino Gli argomenti Segnateli Mi raccomando Così saprai sempre Cosa dire Con una ragazza Argomento numero uno Signor Titta Sì qua ci sono Alcuni argomenti Probabilmente Di argomenti Che possa essere un sacco In questo video Te ne vedremo qualcuno Ok Così quando dici Non so di cosa parlare Tu c'hai il tuo blocco appunti Te lo stai tenendo lì Mentre stai guardando In questo video Ti scrivi Questi argomenti Ce l'hai Così Non puoi più dire A te stesso Io non sapevo più Che cosa dire No frate C'hai questi argomenti Partiamo dal primo Come diceva Johnny Che passioni e hobby Ad esempio Esatto Mi puoi dire Non so di cosa parlare Con una ragazza Parla di passioni Parla di hobby Cosa c'è di più semplice Di parlare di passioni e hobby Che sono cose che Tutti quanti amiamo Tutti quanti abbiamo Tutti quanti Non vediamo l'ora di dirlo Che poi anche lì Uno non vediamo Ma poi tutti quanti Abbiamo una passione E un hobby Cioè Parliamoci chiaro Facciamo finta Che questa X persona Fa un lavoro Che non le piace Non può essere Una sua passione Perché dice Io odio il mio lavoro Va bene Finito di lavorare Vivrai una vita Allì fuori del lavoro Giusto Bene Per assurdo Tu mi dici Eh no ma io Sto a casa Però Mi piace cucinare Fra te Con una tua passione Te l'ho trovata No ma io non ho passione Io guardo sempre la tv Bam La tua passione è guardare la tv Io guardo solo i video di social Surprise Bam Cazzo Cazzo Capito pure no Ma io in realtà non so Io esco sempre a passeggiare col cane Bene Animale è un hobby E essere amante di animali Una passione Quindi capisci bene Che tutti quanti Chi più Chi meno Passione più grandi Passioni minori Ma tutti hanno delle passioni degli hobby Un qualcosa che fanno al di fuori Della sfera lavorativa Quindi Cerca di conoscere questa ragazza Cerca di capire Se non so Lei fa sport Si No Che tipo di sport Non lo so Le piace passeggiare All'aria aperta Fare trekking Le piace guardare la tv Film Le piace cucinare Eccetera Eccetera All'estra Cioè Qua stessa cosa Sì Mojas È un pieno di hobby e passioni E quindi Cioè Parare di hobby e passioni Può essere veramente un argomento Infinito Quindi For cortesi player Ok Bene Secondo Argomento numero due Papapapapapà Viaggi Bene Appunto Allora Difficilmente Ci può essere Ma difficilmente A una persona non piace viaggiare Ok Molto spesso Ragazzi Ah mi piace viaggiare Bene L'argomento viaggi Può risultare Molto Molto Interessante Anche perché Prova a capire un attimino player Se un viaggio È stato Particolarmente Positivo Particolarmente Bello Ed emozionante Ok Io Quando andrò A parlare Di questo viaggio Mi ricorderò In automatico Delle esperienze Positive E delle emozioni Che provavo Ok Nel momento in cui vado a riprovare Quelle emozioni Quando te le andrò a raccontare Io entrerò in quelle emozioni Lì Se raccontando di quel viaggio Io ero felice Nel momento in cui te lo vado a raccontare Il mio cervello Andrà a ripescare Quelle emozioni E andrà a riprovare Quelle emozioni E quindi cosa succede? Che la ragazza In tua compagnia Sta provando felicità E inconsciamente La ragazza dirà Oh Io insieme a questo ragazzo Sono felice Esatto Provo emozioni positive Questo ragazzo Mi fa stare bene Ok Quindi Parlare di viaggi È un'ottima cosa Che poi è una cosa Semplicissima Ah il tuo viaggio Non ho mai viaggiato Bene Dove ti piacerebbe viaggiare Bam Fine Ok Allora Bene Quali altri hobby hai Quali altri passioni hai Quindi capisci bene Che inserisci l'argomento viaggi Ok Anche perché avrai modo Di conoscerla molto meglio Basandoti Sui posti Che ha visitato Non so È una ragazza È una ragazza Che è stata più al mare O più in montagna Ha viaggiato più in paesi europei O extra europei Fuori dall'Europa È una che O per assurdo è tutta Italia Tutta Italia No io viaggio Ho fatto dal nord Dal sud Fantastico Oppure non lo so Viaggia sempre Nello stesso posto Magari una di quelle persone Che ogni estate Va Non lo so Al mare In Sardegna Non lo so Nello stesso lido Nello stesso lido Oppure no È una ragazza Che non le piace mai Tornare nello stesso posto E quindi cerca di cambiare E quindi magari È una ragazza più dinamica Meno dinamica È una ragazza Che ama di più l'inverno Perché magari Va spesso in montagna Oppure è una ragazza Che non sopporta l'inverno E va sempre al mare Quindi è una ragazza estiva Quindi Capisci bene Quanto puoi scoprire Della persona che hai davanti Parlando di viaggi E nel momento in cui lei Ti va a raccontare Delle sue esperienze Eccetera eccetera Stessa cosa puoi fare Anche tu Ah no Sai perché io sono stata A Barcellona Lì ho visto La Sagrada Famiglia Ti racconta Tutto qua Ma sai che anch'io Sono stata a Barcellona Ad esempio Oppure io sono stato In Spagna Non a Barcellona Ma sono stato a Madrid Allora racconti La tua esperienza a Madrid Non sei stata a Madrid Sei stata a Magala Racconta di Malaga No ma tra l'altro Tu sei stata in Spagna No io invece Sono stato in Austria O sono stato in Francia E racconti Un'esperienza Perché la Spagna è così La Francia invece È così E quanto potete conversare Di un singolo argomento Come i viaggi È impossibile rimanere Senza qualcosa da dire Esatto Ok Bene Prossimo argomento Lavoro E carriera Ok Allora Player Molta attenzione qui Fai molto attenzione Perché è un argomento Un po' delicato Questo qua Ok Lavoro Bene Quando tu mi parli Del lavoro Fai attenzione Come me ne parli Perché Perché se per assurdo Per x motivo Non lo so Fai un lavoro Che non ti soddisfa Che non ti piace Che non ti stimola Ok Non descrivermelo In maniera Noiosa Ma cerca Di vedere Il lato positivo Di questo lavoro E descrivimelo In maniera entusiasta Che cosa vuol dire Vuol dire che Se tu hai degli sbattimenti Con i tuoi colleghi Non ti ci trovi bene Eccetera eccetera Non stare a lamentarti Dei tuoi colleghi Con le ragazze E questa è una cosa Che ho visto succedere Un migliaio di volte Non ti puoi lamentare Perché trasmetti Emozioni negative Non puoi trasmettere Emozioni negative Durante una conversazione Perché Il mio capo Non vuole darmi le ferie Mi ha cambiato turno E quindi Il mio collega Fai un puttana Perché mi sputtana sempre Cioè Raga abbiamo visto In quelle conversazioni Veramente che ti cadono I coglioni Devi andare a rincorrerli Perché stanno Rottolando giù per le scale Quindi No player No Io non voglio assolutamente Sentire Inizio a parlare di lavoro E poi No Perché il mio capo Fai un puttana No Perché il mio collega No Perché questo è le ferie E i turni E questo è lo stipendio No Sei respingente Nessuno ti vuole Cazzo Perché ti lamenti Impara A raccontare Del tuo lavoro E impara A interessarti Anche del suo lavoro Magari fai un lavoro Di cui Non conosci nulla E interessati Del suo lavoro Magari Le fai parlare di Come mai è arrivata A fare questo lavoro Magari potrebbe essere Un qualcosa di interessante Oppure le fai parlare di Ok In questo momento Non le piace il lavoro Vediamo Che cosa invece ti piacerebbe fare Se tu potessi scegliere Qualsiasi lavoro del mondo Bam E arriva a parlare di lavoro Ma di un qualcosa Che invece la fa sognare Emozionare E rimaniamo sempre lì E ritorniamo sempre lì No razionalità Logica Così No Emozione Sì Emozione Sogni Ti racconta dove si vede Nella sua vita A livello lavorativo Il suo sogno La sua carriera Eccetera eccetera La stessa cosa puoi fare tu Cazzo Dimostrati una persona ambiziosa Che ha degli obiettivi Che ha dei sogni Da seguire Capisci che Risulta molto più attraente No Ah sì No Io mi alzo la mattina E vado a lavoro E mi fa schifo E non so cosa fai No No Bene Ok Ci siamo Se ad esempio Non so Anche se devi raccontare Il tuo di lavoro Cioè Facciamo finta che fai l'architetto Cioè Lei ti dice Ah ma tu invece che lavoro fai Non lo so Eh sì Non sono un architetto Sì ok Emozionante Oh cazzo Signorina E allora Tu mi stai chiedendo che lavoro faccio Più o meno Ti faccio capire Io Faccio in modo Che tu Quando vai a dormire Non ti crolla il tetto sopra la testa Che cosa vuoi dire Hai detto che fai cazzo l'architetto Ma cazzo In maniera efficace Con delle parole Molto più Cazzo Intrattenenti Intressanti Che fanno in modo tale Che la ragazza si inizia A viaggiare con la testa E noi facciamo Inizia il senso Perché pipì Papà Cazzo Allora li fa investire La ragazza ai tuoi confronti Perché comunichi In maniera diversa Rispetto alla massa Ok Bene Prossimo 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 argomento Signore e signori Il prossimo argomento È la Rullo di Tamburi Musica Il rullo di tamburi Ovvio Quindi chiedile Amico mio Che musica Ascolta Quali cantanti O gruppi Le piacciono Non lo so Chiedi se è mai stata A concerti Racconta se tu sei stato A concerti Eccetera Eccetera Non so Ragazzi c'è Tiziano Ferro Cesare Cremonini Che parte il cd Ma c'è Sanremo C'è di tutto Ok Ci sono Appunto poi magari Se sei in discoteca Anche lì ci sono dj C'è la musica C'è il reggaeton Roba Puoi parlare Sei da piccolo Hai guardato i cartoni animati Per forza C'è le sigle Dei cartoni animati Per assurdo Parlami di Cristina D'Avena Ah Ah godo Parla Cantami la sigla Dei puffi Mi va bene Ma parla Parla con questa ragazza Ed esprimi emozioni Parla di musica Ok È importante Racconta le tue esperienze Se sei stata a concerti Se non sei stata a concerti E poi soprattutto Puoi anche Anche qui Conoscere ancora meglio La ragazza Per esempio Puoi farti Farti vedere la playlist Su Spotify Stai parlando di musica Oh ma senti un po' Ma famiglia Dai 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 Sentiamo un po' Tira fuori la playlist Vediamo Analizziamo la canzone Ma questa è la sigla Di una serie tv Bam E sono passato A parlare di serie tv Ah ma questa è di un film Boom Pure ah cazzo Questa canzone è spagnola Reggaeton Ma sai che non avrei mai detto Che sei una tipetta Che balla reggaeton Ah invece Un pochino sì Ah pa 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 Ah questa invece È una serie tv È una canzone coreana Ah Ah sì Perché Sì sì Ma io sono appassionato La musica giapponese Ah coreana Ok quindi ho capito Che i drama Robbe Anime Manga Ah ok allora dimmi un po' I tuoi I tuoi tre anime preferiti Boom E sto già slittando Quindi una cosa che puoi fare è Prendere Spotify E analizzare insieme alla ragazza La sua playlist O la tua playlist Dice no muoio Bene Prendi la tua Ok Da lì puoi capire Anche molto che tipo di ragazza è Non lo so Le piace le DM La techno È una ragazza che magari Probabilmente Le piace ballare In locali un po' più underground E cerca determinate tipologie di locali È una ragazza che appunto Le piace musica latina Bene Magari è interessata a ballare salsa Puoi parlare di salsa Puoi chiedere se ha fatto salsa o no Le piace appunto la musica coreana Giapponese eccetera eccetera Molto probabilmente È appassionata della cultura orientale Del Giappone Della Corea Dei manga Dei key drama Eccetera eccetera Quindi capisci Magari ti parla anche di Non lo so Musica italiana Ma lì vai a parlare di concerti C'è un ragazzo ad esempio Che era Fino a qualche ora fa Qui al weekend Insieme a noi Che lui è appassionato di concerti Va a tutti i concerti Che ci sono Tutto l'anno Ok Boia Questo è un argomento della Madonna Ieri sera in discoteca Ha parato con un sacco di ragazzi I concerti Sì perché io sono uscito a prendere Il colplay Alla fine anno c'è il concerto di Madonna Bim bum E ragazze estasiate Come hai fatto a prendere il biglietto dei colplay Devi dirmi il tuo segreto E lui Perché io E allora bam Ok Con un semplice argomento Come la musica Tu arrivi a generare interesse Nei confronti alla ragazza Bam Così Ok Ok Quindi Penso sia l'ultimo argomento Vediamo un altro Esatto Film e serie tv A number five Amico mio Te li sei segnati Segnati Ad oggi Player Ad oggi Praticamente Chiunque Ha una piattaforma streaming Che sia Netflix Prime Video Eccetera eccetera O c'ha YouTube Non lo so Esiste internet Ok Quindi è molto 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 Probabile Internet O in tv Che qualcuno Ha visto Almeno Un episodio Di una cazzo Di serie tv O almeno Un film Su Italia 1 Non mi interessa Ma Puoi parlare Di film Serie tv Cinema Eccetera eccetera Ok Anche qui Chiedile Se è appassionata Di serie tv Quali sono le sue top 3 Serie tv I suoi top 5 film Qual è il suo attore preferito La sua attrice preferita Eccetera eccetera E parla di cinema Film Serie tv Nel momento che È appassionante E molti conoscono Chi più chi meno Ma anche semplicemente Oh qual è il tuo attore preferito Sì Ma prova a parlare Di queste cose qua Esatto Ma stavamo raccontando Prima dell'approccio Che c'è stato ieri sera In metro Con le due ragazze Oh ma la serie tv La casa di carta Pim pum E poi dalla casa di carta Siamo passati Tentition Island Tentition Island Poi è il gran Gran hermano Gran hermano Grande fratello E poi siamo passati Oh ma voi qua dalla Spagna Conoscete mare fuori Mare fuera E buscalo Buscalo sul telefono Mare fuera C'è Capisci come Anche film e se tv È un argomento Della madonna Ovviamente nel momento In cui vai a conversare Esatto In maniera efficace Che è Perché qua ti abbiamo dato Una lista di 5 argomenti È sempre Il come vai poi a conversare Perché adesso La lista di argomenti Ce li hai Se per assoluto Stai parlando con la ragazza In questione Tu c'hai i segnanti Sul telefono Questi argomenti Tu puoi tirare Il fuori il telefono E dire ok Quali sono gli argomenti Ah qua ce ne sono 5 Perfetto Chi ti ha detto questo Questa fare questo 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 Oh film e serie tv Potrei utilizzarlo Si Vai ovviamente a farlo Con gli accorgimenti Che ti abbiamo dato All'inizio del video Esatto Perché se tu vai a parlare Di un argomento Come quelli che ti avevano detto adesso In maniera efficace Fai emozionare la ragazza Ti interessi giurinamente A ciò che ti dice Lì C'è La Il passaggio poi Al Generare interesse Creare attrazione Fare in modo che lei desideri Scambiarsi il numero con te Fare in modo che poi Lei desideri rivederti Per un primo appuntamento Diventa tutto quanto Una conseguenza naturale Del tuo modo di comunicare Bene Direi che ci siamo Amico mio Diciamo così Se magari Hai saltato all'inizio del video Perché sei uno di quelli Che è stato all'inizio del video Come dicevamo Per qualsiasi cosa Questi sono i contenuti gratuiti Se ti interessa scoprire Quelli che sono i percorsi più avanzati Scrivici un messaggio In DM su Instagram O mandaci una mail A infochiocciola We are socialpears.com Ci chiedi ragazzi Come funziona il weekend epico Ragazzi come funzionano Negli eventi dal vivo Vorrei fare un percorso con voi Oppure quali sono i vostri videocorsi Ci scrivi un messaggio Noi ti indirizziamo Per il percorso più adatto per te Non ti preoccupare Che così ti facciamo fare il next step Va bene player? Lascia un like Iscriviti al canale E noi ci vediamo al prossimo video Bella player